Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Vice Presidente Massimiliano Smeriglio visitano Porta Futuro Città Universitaria, uno dei centri che costitueranno il Network Porta Futuro University. Si tratta del progetto della Regione Lazio che ha l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti i cittadini i servizi per persone ed imprese per l'empowerment, lo sviluppo dell'occupabilità offerti dal modello Porta Futuro. Da oggi apre un servizio rivolto ai giovani, agli studenti universitari, ma a tutti coloro che cercano lavoro perché con Porta Futuro Università apre un servizio che studiando le capacità, le esigenze, i curricula dei giovani li accompagna verso un punto di lavoro tra le offerte che le imprese del territorio offrono. E' quel legame, quel contatto che noi ci auguriamo permetta alle persone di sentirsi meno sole o peggio vittime dei ricatti o di chi assume sotto costo proprio come forma quasi di schiavitù o peggio della cattiva politica a volta che trasforma il diritto al lavoro in un favore da chiedere a qualcuno. Ora, questi problemi non si risolvono con pacche sulle spalle, va solo investendo su servizi innovativi e noi investiremo nella programmazione europea 20 milioni di euro per costruire questa rete che sia più vicina a chi giovane o dopo l'università, ex studente universitario, cerca un lavoro. Questo servizio non c'era e qui, come in altri luoghi, aprirà con questi sportelli nei luoghi di aggregazione giovanile. Qui dentro il bar di Via dell'Hollis, che è un luogo storico della Sapienza, stiamo cercando di aprirli in luoghi simili a questo. Infine, questo per noi è anche un modo per raccogliere, l'ho detto prima, e rispondere all'appello dei sindacati che hanno chiesto alla regione di non distrarsi. Hanno ragione, non bisogna distrarsi. Ci sono dei timidi segnali di ripresa che non vuol dire che la crisi sia conclusa e sappiamo quanto enormi siano ancora i problemi di fronte a noi. E quindi non ci distraiamo, continuiamo a investire sulla ripresa, sul diritto al lavoro, sull'innovazione, affinché questa fase, che per fortuna dopo anni fa anticipare i dati del pile del lavoro, il segno più invece che il segno meno, si consolidi, perché se non c'è questa attenzione c'è il rischio che tutto ritorni indietro. L'Italia ha bisogno di unità, ha bisogno di combattere unita, ha bisogno di serenità e in questo io credo che noi possiamo dare un grande contributo, perché la regione Lazio è la seconda regione italiana per PIL e se cambiamo noi aiutiamo anche l'Italia a cambiare. Presidente, per il pronto soccorso del San Camillo superaffollato, già preso contatti? Ovviamente già da due giorni i dirigenti della regione sono andati e sono fasi complesse anche per quella realtà complessa. Comunque, come ha detto il direttore, io mi auguro che in poche ore anche questo problema sarà risolto. Sicuramente un'attenzione forte all'università, all'università pubblica, al rendere più semplici, flessibili alla portata di tutti i servizi. Non l'abbiamo detto prima, il fatto di averlo messo qui in questo luogo storico, tra la mensa e il bar, quindi nella mischia del movimento di come gli studenti si muovono dentro l'università, per noi anche questa è una grande sfida. Non devono essere servizi separati, devono stare nel cuore della vita studentesca e la stessa cosa faremo nelle altre università. Il tema è certamente l'occupabilità, ma è anche la formazione, la mobilità europea, le opportunità che arrivano da tutto il mondo, portarle qui, perché sappiamo quanto è difficile oggi confrontarsi col mercato del lavoro. Quindi non è vero che non si può fare niente, si può fare molto, se mettiamo in un unico luogo tutti i dati e le opportunità che il pubblico e a volte anche il privato sanno esprimere per i giovani e soprattutto per i ragazzi che stanno finendo il corso universitario.